buongiornissimo 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 ehi la vane sono le otto e un quarto tra un'ora dobbiamo essere al casello dell'autostrada ciao amore sei contenta oggi andiamo a divertirci dai alziamoci ciao ma sei felice che canti siete pronte prontissime stessa gritta di quando la mattina andiamo a scuola wow bravissime tu Anastasia non hai preso niente da portare in mano insieme sì ok cioè in verità noi io adesso mi sono svegliata ho detto ehi Gucca che ore sono? mi sente qualcosa dopo un po' mi sono alimentata e dopo un po' mi sono svegliata ehi Gucca che ore sono 8 e 15 ero stata sveglia che dobbiamo andare alle 9 e in quattro dobbiamo essere lì io non so se siamo corsi in bagno bravissime bravissime così che si fa anche quando si va a scuola così lei questa è l'energia che si mette la mattina dai andate in macchina che c'è già il papà che vi aspetta che io tra un minuto vi raggiungo e andiamo al casello però prendete la bottiglietta d'acqua eh sì hai ragione vengono ciao amore bimbe siamo partite adesso andiamo al casello e aspettiamo che arrivano i nostri amici eh siete contenti? sì ve l'ho già chiesto prima forse? eh sì eh già guarda cosa? hai trovato la bottiglietta d'acqua benissimo anche i cracker bene brave ma sì se arriviamo presto andiamo a far colazione va bene? ok buon voyage ciao papi buon voyage bimbe stiamo aspettando chi? i nostri amici siamo fermi al casello sono andati a prendere un bimbo anche loro e arrivano cosa vi aspettate da questo parco? così con me sarà bello sicuramente allora qual è l'attrazione? abbiamo guardato qualcosa su internet l'attrazione che non vedete l'ora di vedere anche io anche io anche la bocca del pesce dove si va dentro e si fa la foto vero? anche i maschera virtuali anche quella la maschera virtuale dai che sarà tutta una sorpresa oggi eh? siamo partiti sono lì dietro sono lì dietro dai che tra un 40 minuti siamo arrivati eh va bene facciamo un giochino? sì dai che giochino facciamo? dimmi dimmi ok che penso un animale dovete indovinare va bene tu ci dai degli indizi? sì sai che è un pescello difficile i colori? ok pensato? la pecora? no allora è verde è verde? la lana la cimice? no è striscia la lana? no il verme? no la lana? no il millepiedi? no la lucertola no dai è facilissimo papi è verde è striscia il grillo senza zambe no vedete? sì ci arrivi era un gruppo ok è rosa maiale è rosa? sì è un maiale? no è rosa e non è un maiale sei sicura che non è un maiale? che tu mi prendi in giro? no cosa c'è di rosa? c'è anche un pupazzetto rosa ma non è che è rosa nel pupazzetto ma nella realtà è di un altro colore? no è rosa ah che animale c'è rosa? il finicottero bravo bravo hai ragione brava Anastasia è vero va bene dai mi piace tanto scello è vero sì ok ci vediamo quando arriviamo c'è bimbe siamo a Milano guardate che bella eh guardatevi intorno che è la prima volta che venite a Milano vero? anche tu vane? beh siamo arrivati siamo arrivati guardate Shenzaland è là in fondo e c'è una fila bestiale ma sono quelli che entrano l'orario prima del nostro quindi noi si presume che saremo i primi poi ad entrare vero? adesso aspettiamo i nostri amici che arrivano li chiamiamo li diciamo che siamo arrivati andiamo a fare colazione papi? eh sì dai ragazzi fa freddissimo sto morendo di freddo tu vane? vero? a 9 ora faceva più caldo comunque stiamo andando a fare colazione perché manca quasi un'oretta per il nostro ingresso e intanto aspettiamo che arrivano i nostri amici che parcheggino perché sono già arrivati ma devono cercare un parcheggio a dopo ci abbiamo incontrato sì ciao sei contenta? eh? come funziona quindi? avete chiesto? eh? siamo i primi ad entrare? no? 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 non sappiamo ancora niente? ciao mia anche tu ce l'hai amore i miei sono più figli di lasciare in macchina eh? i miei sono più figli di lasciare in macchina sì non li hai portati anche perché tanto non li usi adesso io li dovrò prendere si entra bimbi wow ma chi c'è qua? wow che meraviglia foto bimbe bimbe vanessa vieni qua yes la nostra foto è il nostro padre attenzione aspetta bianco dai tutti ok 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 e si sono posti perfetto dai vane Ani 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 Anastasia venite qua Vanessa vabbè wow amore la bocca gigante dove è Anastasia Ani mettiti qua mi sembra che sei sul cuore devi mettere qua ah vieni qua qua ah sì è vero allora che le braccia più che state in questi spazi si cantonizzano attenzione amore ma come sei equilibrista brava eh no Anastasia Anastasia dove è Anastasia lì dritta vicino a Vanessa sbagliati fermi eh fermi è qui qua c'è l'elefante tutti sulla promoscia dai Mia mettiti vicino dietro Diego mettiti su Diego vicino a Diego dietro Mia Mia dietro Diego tra Diego puoi togliere la mascherina togli la mascherina in questa zona ho detto di sì potete abbassare la mascherina bravi eh mi scusi eh signora poteva anche andare in un bagno privato cioè volevo dire vai Diego vai Diego Vanessa andiamo di qua Anastasia falla tutta eh falla tutta tutta ok Diego mettetevi così come sono loro dai 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 spostatele facciamo un pochino così facciamo finire di volare bravissima andiamo di là anche tu amore vai vai vicino due angioletti uno di quelli proprio eh due angioletti ma no dai dai entriate dai fate qualcosa andate 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 che vuoi hai schimato un angolo vai Vanessa ci sei ci siete tutti devi prendere tutto l'ho preso guardate la casa al contrario guarda guarda non toccare troppo ma guardate che meraviglia c'è il divano sul soffitto foto al testa in giù bravissime non troppo non troppo oh dai fatte mia anche tu vai vai fallo tu non l'ho fatta mia vai amore fai così con la testa come se ti devi lavare i cappelli e mettere dietro la testa ma che forte ok bravissimo bravissimo e poi quindi le devi tutte modificate si ma che bello questa è nostra questa è delle femmine troppi bambini ci sono in mezzo siete in troppi eh si eh dai ma è bellissimo guarda dai Daniel tu spostati più in qua ok Bianca basta la mano perché sei sopra guarda ah già dai lo facciamo sì e io con Anastasia anche io prova dai vediamo Bianca spostati solo un secondo amore poi io lo faccio con mia ferma non lo so Van Gogh in persona mamma che gli stringi il caccio perché è largo ho paura cosa vedi? è bruttissimo perché? non ti piace? non ti piace? cos'è? le cellule Vanessa sono le cellule toglilo ti piace? sì sono le cellule che abbiamo nella nostra testa wow wow ti piace amore? vedo delle palle eh sì sono i neuroni wow dammi la mano ci sono le scuole siamo i superfici lascia la se ti voglio provare mamma andiamo dopo voglio vedere un c'è il bianco guarda no ma adesso non è riparo vi dovete anche girare indietro finito? ci sono le scuole? sì prova a girarti anche con la sedia scusa indietro con la testa girati wow fa morire continua a dire wow ah non so deve essere un po' con il pesce pensa che noi l'abbiamo a casa questa maschera ciao 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 oh dio tira qui Ani Ani un dinosaurio piccolino com'è Ani Ani cosa ha paura cosa succede? Vanessa e Bianca vi dovete girare a 360 gradi con la testa perché dietro di voi c'è il mondo da scoprire wow cosa? giratevi non c'è niente qua? ah no? di là si cos'è che c'è? eh cos'è che c'è? eh eh solitamente sono a 360 gradi le immagini quindi se tu ti giri con la testa dietro di te oh dio guarda Bianca dietro hai visto? io ho visto cos'è? ah ah ahm che uova ah guarda le uova guarda le uova guarda le uova tocca alle giovani che uova ha 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 ah accendete la luce dai non funziona? guarda sugli strumenti la differenza tra una lampada e una lampada al consumo vediamo ok questo questo è a neo questo è un brimbo dei capelli chissà che festa scusate muovi muovi stop con la testa vai 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 che funzione ferma ferma e quelle che vanno al su cugino hit mani sempre attaccate guarda che ora arriva la cascata di capelli pronta? aspetta vai che non vedi la profondità ma non dobbiamo andare da dove? da capo piccoli venite qua non è né caldo né freddo molto piacevole anche quello vero dovete scappare i bambini altrimenti vederci in braccio ah che punta fatevi un po' che lo riformulo fatevi fare come una strega bianca e il bianca nonno vedete lo svantagliotico mi lo preoccupano bimbe bimbe vi è piaciuto scienza vi siete divertiti? adesso abbiamo trovato un altro gioco dove siamo? al burger buon appetito il pane cita finita ti sei divertita? sì abbiamo mangiato anche il mcdonald buono? hai mangiato bene? comunque è stato bellissimo vero Scienza Lander? io mi sono divertita tantissimo magari un altro giorno torniamo così faremo meglio le foto al contrario adesso si torna a casa e si studia un pochino e forse vengono forse vengono le tue amiche a casa vediamo va bene? se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video ciao 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 mia ciao 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 Grazie a tutti.